... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 E lui scelterà del G2 Natale, chi non arriva, vai, vai, forza, un applauso di totale a questi signori e a queste signore atleti, e lui, 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 lui. E lui, lui, il G2 Natale è un applauso di un applauso di totale a chi non ha mai avuto i partiti, 4 ore 5 ore 5 ore Salvatore Salvatore Carretto Salvatore Voi il premio Voi il premio Il premio il premio, la sapaccia Il premio il premio Il premio il premio Il Il premio di Si La Sando